Ciao creatura, io sono Mecati Splendenti e benvenuta o bentornata nel regno di Kuzai ESMA. Questa sera leggiamo l'oroscopo, è una delle cose più frivole da fare in tutta la nostra esistenza e inutili, perché l'oroscopo sappiamo tutti che non esiste, però c'è chi ci crede e poi è sempre bello leggere delle cose che poi sappiamo che non si avvereranno, far ridere. Ok, allora, non credo nell'oroscopo, si è capito? Benissimo, allora, anzi dobbiamo leggerlo proprio per vedere se qualcosa ci azzecca su qualcosa, poi nei commenti fatemi sapere se qualcosa di ciò che abbiamo letto si è avverato, dato che comunque è l'oroscopo della settimana dal 12 al 18 aprile 2024, quindi dovrebbe essere, credo, allora, forse questo video uscirà dopo il 18 aprile, ma comunque così potete dirmi se si è avverato qualcosa. Ariete, dal 21 marzo al 20 aprile, niente ti è stato regalato, hai bussato a tante porte, anche rischiando l'orgoglio, ma tranquilla, la primavera ti porta leggerezza nel cuore, è una mente lucida e vincente, amore, certi giorni da super podio, guppitoso, sembra fatte da me, altre dal 13, pomeriggio al 15, è specifico anche se è un po' insofferente, ma le coccole possono essere romantiche prima del weekend e da martedì. Salute, c'è il buono della tua stagione e anche l'amore che fa salute, soldi, gran fermento nel cielo, sul lavoro, una situazione si può sbloccare definitivamente. Giorno Fortunato, venerdì 12, io sono Toro, questo è il mio compagno al 21 aprile, quindi sono proprio la prima da 21 aprile al 20 maggio. L'energia non manca, ma è una settimana molto strana, infatti, i pensieri, i dubbi sono ancora così tanti, che potresti scegliere la strada della riflessione silenziosa e non sarà certo facile capirti. Amore, c'è un'atmosfera familiare e non tanto congeniale alla profondità dei tuoi sentimenti, però nel weekend il cielo può farti vibrare sul piano dell'eros, beh, come ogni weekend still, vabbè, salute, l'energia è buona, ho raffreddore questa settimana, parliamone, però devi stare attento agli scompensi alimentari e cerca di non scordarti che noi siamo quel che mangiamo. In realtà, in realtà, no, sto mangiando un tattino questa settimana, soldi, giove, adesso per te è sempre un garante benefico, ma è meglio se avete di fare spese inutili, tranquilla, non c'è rischio, giorno fortunato non è di 15, ok, va bene. Ma, noteramente, gemelli, non è, non sono ancora lunedì 15, quindi devo, deve ancora arrivare, quindi vi farò sapere, lunedì 15 deve ancora arrivare per me che sto leggendo adesso, quindi ti farò sapere che ho fatto. Gemelli, 21 maggio, 21 giugno, la vita adesso è già più morbida rispetto a qualche settimana fa, la felicità è far falline nello stomaco e nel cuore e forse anche una idea geniale e una nuova porta aperta, cerca di evitare gli eccessi però. Amore, cielo da armonia, cielo da armonia di coppia e per cupido sei di nuovo sul podio con una simpatia e un fascino da portodarmi. Adesso puoi davvero mettere in pratica tutte le statici di cui sei capace. Salute, grazie al sole, è discreta, ma è da gestire lo stress del marte ostile la soluzione, evitare gli eccessi, soldi. Non dico che il salto del conto corrente si impenna, ma con la lucidità mentale attuale la tua sicurezza economica può aumentare. Giorno fortunato, mercoledì 17, cancro, 22 giugno, 22 luglio. Hai l'energia di Marte e la protezione di Giove, ma c'è ancora Venero stile che fa calare l'autostima e amplifica i dubbi d'amore con poca lucidità e più ostacoli sul lavoro. Amore, cielo scontruso. Il rapporto di coppia vive un momento molto delicato e c'è chi sta per prendere una decisione a sorpresa che puoi mettere tutto in discussione. Salute, l'energia non manca, ma è da gestire con attenzione perché sei piuttosto distratta e alquanto inconcludente pronto la pancia. Buon Giove, ma idee non lucide. Cerca la complicità di chi ti ama o di un esperto. Giorno fortunato, domenica 14, leone 23 luglio, 23 agosto. Aprile sta facendo tornare le belle giornate, ma per i soldi, puntini puntini, cerca di restare nei ranghi perché ancora non è il caso di strafare. Per il resto invece, quindi sia nell'amore sia per il lavoro, hai un cielo che ti regala più sorrisi. Amore, venere dalla tua parte e se ti senti ancora demotivata, stai tranquilla. Ora sono probabili i cambi di scena con conseguenti fuochi d'artificio per il tuo cuore. Frasi, salute, buona. E anche se non è detto che le cose ti riescono subito al primo colpo, adesso l'importante è avere la consapevolezza che ogni sforzo sarà ripagato. Cosa c'entra con la salute? Giordi, devi ridimensionare un viaggio, uno sfizio, una piccola follia, ma con mercurio amico. Compensi con il lavoro. Giorno fortunato, venerdì 12. Vergine, 24 agosto, 22 settembre. Giove, vuole portarti fortuna e pensiero positivo, ma anche questa settimana evita gli accessi fisici e caratteriali per una tua possibile sofferenza se sei contraddetta. Amore, l'amore può essere anche quell'attimo di follia che ci si concede per provare a se stessi che siamo ancora capaci di donarci con passione. Con passione. Ma con Marte contro? Ora è una follia rischiosa. Salute, sii consapevole che con questo Marte opposto il profumo della primavera può portarti stress o farti girare un po' troppo la testa. Soldi, insomma prendi anche tu il raffreddore, vergine mi si piace. Soldi ancora a casa e famiglia al centro delle tue priorità, ma c'è sempre Giove che può sostenere i tuoi sacrifici. Giorno fortunato, lunedì 15 come me, come torno. Bilancia, se stai cercando ancora di imporre regole, ragionamenti, sbagli, ora con ancora troppe opposizioni è importante avere pazienza e al limite cercare di prevenire e questo vale tanto per l'amore quanto per il lavoro. Amore, tanti dubbi e le incertezze in questo settore. E tra incontri sbagliati o mancati forse dovrei fare i conti anche con qualche rottura, pure tra le amicizie. Salute, stressata, anche perché delusa e poi quanta energia consumi per stare sempre alla ricerca dell'equilibrio. Bilancia proprio messa male, soldi non sono tanti quanto ne avresti bisogno, anche perché per il lavoro con il mercurio posto sono ancora molti tanto gli ostacoli. Giorno fortunato, mercoledì 17, Scorpione 23 ottobre e 22 novembre. Giove è apposto ai soldi e al tuo pieno benessere ma con Marte a favore puoi valutare con più grinta e intraprendenza una serie di prospettive che vanno a tuo favore. Amore, Marte erotico ed ha emozioni, ma ti inibbi i piedi per terra. Tra chi ti piace ci può essere qualcuno di inaffidabile o rischioso. Salute, ti perdi se ti sfugge il controllo. Lasciati andare con passione al fluire della vita. Soldi, non ha alcun senso, con la salute però vabbè, soldi non molti, ecco proprio ho detto così. È importante curare le questioni pratiche, dalla gestione di affari familiari può nascere una buona occasione. Giorno fortunato, domenica 14, Sagittario, 23 novembre, 21 dicembre. Dopo un inizio anno mediocre, adesso è giusto avere l'ucidità giusta per usare e ricevere una buona dose di coccole. E da martedì puoi usare a 360 gradi. Con quel Marte ostile però cerca di evitare gli eccessi, a tutti ha detto cerca di evitare gli eccessi, a tutti. Vabbè, amore, la primavera sta portando odori e promesse di nuovo, magari proprio per rimpiazzare chi non ti meritava. Ma non è neppure escluso il rientro sorpresa di un ex che non hai mai completamente dimenticato. Salute, buona grazia al sole. Ma con possibili cali di energia a causa di Marte, cerca di darti tu, quindi una regolata. Vabbè, grazie. Soldi, sono in arrivo, intuizioni felici, soprattutto di tipo commerciale. E adesso ti si possono aprire nuove prospettive anche grazie a persone che conosci. Giorno fortunato, mercoledì 17. Capricorno, 22 dicembre, 20 gennaio. Mentre i cuori sono ancora un po' arrugginiti dalle piogge avernali o primaverili. Sappi quindi che, per contrastare un cielo antipatico, ci vogliono pazienza, dolcezza e un pizzico di trasgressione. Amore, non sarebbe proprio dovuto andare così. E invece, ecco, ti carica di desiderio, di cose non dette e di appuntamenti mancati. Rimpianti qualcuno e magari anche con un po' di nostalgia. Salute. La tua energia non è niente male, però il sole ti stressa. E sono ancora davvero troppe le ansie e le responsabilità sulle tue spalle in ogni settore. Soldi, gli errori a cui rimediare sono molti. E ora, se insisti nel voler decidere tutto da sola, rischi di farne altri ancora. Giorno fortunato, giovedì 18. Scommetto che non devi evitare gli eccessi. Acquario, 21 gennaio, 19 febbraio. Dietro il tuo aspetto buonario si nasconde una dote particolare. Sei così tenace che se vuoi veramente una cosa la ottieni. E ora sei lucidissima e hai un fascino da podio. Amore, fascino e tanta creatività nel tuo cielo. E nonostante giove, sei anche pronta a correre rischi così senza pensarci. Salute. Hai paura di volare? No. È solo paura di non riuscire a volare. Ma se ti organizzi bene, riuscirai a decollare. Eh? In che senso? Soldi. Dati da fare. A inizio primavera una promessa lavorativa si può concretizzare. Giorno fortunato, venerdì 12. Pesci, 20 febbraio, 20 marzo. L'energia è a buoni livelli, ma il vero problema potrebbe essere l'ambiente familiare. Cerca però anche di leggerti bene dentro. Perché forse il noto non è nelle stelle, ma nel tuo carattere. Amore. Non sei tornata al centro dell'attenzione di Cupido, ma la novità ora è Marte, che ti dà più grinta e passione, soprattutto tra sabato pomeriggio e lunedì. Salute. La tua energia è potente e adesso arriva come un'onda che si infrange sui vecchi scogli ed è davvero impossibile da contenere, anche sul piano erotico. Soldi. Momento di possibili cambiamenti e Marte ora ti dà energia all'intraprendenza per tirare fuori le unghie. Giorno fortunato, lunedì 15. Qua dice coccole romantiche per l'ariete. Segno fortunato della settimana. Onestamente, dopo aver letto tutto, questi qui mi sembrano più fortunati, però, vabbè, dipende dal punto di vista. Weekend hot erotico per il doro. Ma che cosa dite? Fuochi d'artificio nel cuore del leone. L'intuito del sagittario spalanca nuove porte sul lavoro. Acquario creativo e affascinante, grindoso e passionali pesci. Ok, quindi una stellina era migliorabile. Due stelline sufficiente, tre stelline buono, quattro fortunato e cinque super favorito. Quindi io sono su buono, ovviamente, cioè con più gli anni io, in questo periodo, però non me ne va bene una. Ok, perfetto. Va bene. Era l'oroscopo di Riccardo Sorrentino. No, non so chi sia, però mi ha fatto ridere leggere insieme a te, spero che sia stato rilassante, oltre che divertente. Vabbè, per me è stato divertente. Fammi sapere, appunto, nei commenti se ha azzeccato qualcosa, oppure se è totalmente diverso da come abbiamo letto qui. Devo ancora vivermi la giornata di lunedì quindici, quindi ti dovrò far sapere anch'io se è stata davvero la mia giornata fortunata. Spero che questo video ti abbia fatto rilassare. Come sempre ti auguro buonanotte, buon relax. Ciao creatora!